Musica Business dell'accoglienza nell'agrigentino con tributi incassati anche su migranti in carcere e false fatturazioni. Maxi sequestra a re dei supermercati di Palermo, impresa nel mirino, danneggiati camion ed escavatori. Arrestato 37enne e denunciato 60enne per attività di gestione dei rifiuti, non autorizzata e combustione illecita, un tubo inquina la spiaggia di Torre Salsa. Scissione in sena alla giunta Carmina vanno via Urso e Diddio, il primo cittadino e da Carmina perde anche l'ultimo dei suoi componenti storici, Salvatore Urso, che è anche vice sindaco. Musumeci esclude un nuovo mini lockdown e si propone di chiedere nuove aperture, ritardi sul piano vaccinale. Ben trovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione business dell'accoglienza blitz della Guardia di Finanza. Sequestri e misure nei confronti di sei persone, gli indagati sono accusati di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati di truffa ai danni dello Stato. Il nostro direttore Arturo Cantella. La Guardia di Finanza, compagnia di Agrigento, su delega del procuratore aggiunto, dottor Salvatore Velle, del sostituto dottoressa Elania Manno, ha dato esecuzione a un'ordinanza applicativa di misure coercitive e a un contestuale decreto di sequestro preventivo di beni per un valore di oltre 1.300.000 euro emessi dall'ufficio del GIP del Tribunale di Agrigento nei confronti di sei persone, gravemente indiziate dei reati di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di una pluralità di truffa ai danni dello Stato, realizzate nell'ambito della gestione di un ente che, in partenariato con numerosi comuni della provincia, si occupa di accoglienze e ospitalità di soggetti extracomunitari richiedenti asilo. Gli indagati coinvolti a vario titolo nella gestione amministrativa contabile e operativa nella nota associazione di promozione sociale denominata Omnia Academy aveva sede a Favara. Sono accusati di aver fraudulentemente ottenuto contributi e finanziamenti pubblici per oltre 1.300.000 euro pari alla somma delle rette giornalmente ottenute per l'accoglienza di migranti fittiziamente presenti nelle varie strutture gestite dall'associazione, alle spese fittiziamente sostenute e lecitamente fatturate ai danni dei vari enti locali preposti all'erogazione dei contributi nell'ambito dei progetti SPRAR, sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati. Le indagini della Polizia Economico-Finanziaria sono state affidate agli investigatori della Guardia di Finanza di Agrigento. Hanno permesso di dimostrare che i responsabili della Omnia Academy nel corso degli anni hanno più volte sottoscritto e presentato false dichiarazioni circa l'effettiva presenza degli ospiti nei vari centri di accoglienza gestiti dall'associazione con false rendicontazioni e attestazioni di spesa documentate da fatture per operazioni inesistenti per oltre 1.000.000 euro omettendo anche di comunicare l'allontanamento dei migranti dai propri centri di accoglienza. I provvedimenti cautelari in esecuzione sono stati richiesti e ottenuti al fine di impedire ulteriori condotte truffaldine da parte degli indagati cui viene inibita la possibilità di contrarre con la pubblica amministrazione e imposto l'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. Nei loro confronti è stato altresì disposto il sequestro del profitto del reato ovvero di altri beni nella loro disponibilità di valore equivalente al profitto delle condotte criminose e loro contestate. Nel corso dell'operazione sono state anche individuate e sottoposte a vincolo cautelare della Guardia di Finanza decine di conti correnti, rapporti bancari e finanziari riconducibili agli indagati, dieci unità immobiliari tra cui due lussuose ville nel territorio di Agrigento e altri beni registrati che in caso di condanna saranno suscettibili di confisca al ristoro del danno economico patite dall'erario pubblico. L'associazione culturale che aveva fatturato un indifferente per almeno 5 milioni di euro negli anni migliori ed è purtroppo un limite perché l'associazione culturale non ha i vincoli che le altre società giuridiche hanno con facilità maggiore di poter truccare le carte come avveniva in questo caso. Tra le varie anomalie che abbiamo accertato e che oggi costituiscono secondo il nostro punto di vista condotte di reato vi è anche questo aspetto, abbiamo fatto un calcolo con il lavoro ottimo dei militari della Guardia di Finanza che hanno messo in fila fattura per fattura, abbiamo fatto un calcolo dell'acqua minerale che formalmente veniva acquistata dai membri di questa associazione e dai nostri calcoli, dalla rendicontazione che hanno presentato e dall'acqua che si sono fatti pagare risulta che fornivano 15 litri di acqua minerale al giorno per ciascun migrante ospitate. Ora è semplice comprendere che una quantità enorme di acqua minerale in questo modo insomma soltanto per bere diventa una cosa che è irreale e quindi sono in realtà documenti che celano fatture per operazioni inesistenti. Era un business notevole, era l'associazione che gestiva il maggior numero di migranti in provincia di Agrigento quindi non è neanche l'ultima zona d'Italia che si occupa di immigrazione, aveva un fatturato di 5 milioni di euro annui, aveva quasi 90 dipendenti e gestiva più di 14 centri nella provincia di Agrigento e nella provincia di Caltanissima. Quali sono i reati contestati? C'è l'associazione a delinquere finalizzata alla commissione dei più reati di truffa ai danni dello Stato, il 640 bis del codice penale, più i commessi reati di falso strumentali alla realizzazione degli illeciti. Ritorno sul quanto ha già detto il procuratore, chi ha pensato questa legge ha pensato a piccole realtà, non a grandi fenomeni migratori, per cui un'associazione che non ha obblighi di bilancio, non ha obblighi di conservazione della documentazione, non ha obblighi di contabilità puntuale, non può porsi ai vertici dell'attività imprenditoriale di una provincia. La provincia di Agrigento a fronte di 12 mila partita in IVA ha soltanto 80 soggetti che fatturano più di 5 milioni di euro, quindi non possiamo immaginare che un ente associativo che è similato da un punto di vista giuridico al circolo bocciofili possa gestire queste somme, perché? Perché il legislatore ha pensato a piccole realtà, non a uno sbarco epocale, a un flusso epocale di quello che stiamo vivendo in questi temi. Ci risulta che addirittura fossero soggetti che percepivano redditi in vendita a varie disoccupazioni, quant'altro a fronte di particolari due ville che abbiamo sottoposto a sequestro, non possiamo dire risolviti di anni, insomma, in caratteristica. Dipendenti all'oscuro di tutto? I dipendenti probabilmente erano all'oscuro di tutto, consiglio che anche qui non c'è una struttura associativa che ci consente di dare singole responsabilità, un organigramma fisso, normativa, anticorruzione, un'associazione, è come se giocassimo a calcetto. Confermate due misure cautelari in carcere nell'ambito dell'operazione Mosaico che avrebbe fatto luce sulla lunga scia di sangue tra Favara e Liegi, caratterizzata da 5 omicidi e almeno 2 tentati omicidi. La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili, confermando il carcere nei confronti di Carmelo Vadaro, 44 anni, Gerlando Russotto, 31 anni, entrambi di Favara. Russotto è accusato di 2 tentati omicidi, mentre Vardaro, anche dell'omicidio di Mario Iacchelic e Empedoclino, ucciso a Liegi. Proprio quest'ultimo evento delittuoso avrebbe poi scatenato la faida fra i due clan. Lo scorso settembre la squadra mobile di Agrigento, guidata dal vicequestore aggiunto Giovanni Minardi, fece scattare il blizze mosaico con 8 arresti e 18 indagati. I carabinieri della tenenza di Favara hanno arrestato un 37enne denunciato, un 60enne per attività di gestione dei rifiuti non autorizzata e combustione illecita di rifiuti. Arturo Cantella. Continua per i carabinieri della compagnia di Agrigento la lotta al contrasto all'inquinamento ambientale con le attività di controllo volte al rispetto della normativa ambientale. A soli pochi giorni dall'operazione compiuta dall'arma di Agrigento in località Piano Gatta presso lo stabilimento Laterizia Acragas, i carabinieri della tenenza di Favara hanno tratto in arresto un uomo per i reati puniti del testo unico ambientale relativi all'attività di gestione di rifiuti non autorizzata, combustione illecita di rifiuti, omessa bonifica dei siti inquinati. Su segnalazione di un incendio nei pressi della contrada Molinella di Favara, avvenuta da parte di un privato cittadino, è stata rinvenuta dai militari dei carabinieri dell'arma una vera e propria discarica abusiva all'interno della proprietà privata del favarese arrestato, discarica che all'arrivo degli operanti risultava ancora avvolta dalle fiamme. L'odore fortemente sgradevole e i fumi provocati dal materiale che stava bruciando ha fatto allertare i carabinieri che a seguito di accurata ispezione della proprietà hanno constatato che l'uomo aveva in atto un'attività illecita di gestione e combustione di rifiuti solidi urbani, speciali, pericolosi e che deteneva legalmente non in sicurezza nella vassaria in suo uso. Sul posto interveniva anche il personale dell'Alpa per la catalogazione dei rifiuti. Nella stessa proprietà è stata verificata anche la presenza di ingente materiale ferroso e di gasolio agricolo di illecita provenienza, per cui il favarese è stato inoltre deferito in stato di libertà per i reati di truffa ai danni dello Stato, ricettazione ed esercizio abusivo dell'attività commerciale relativa alla presumibile vendita del gasolio rinvenuto. L'operazione dei carabinieri di Favara ha comportato inoltre il deferimento in stato di libertà del proprietario del terreno, un uomo di 59 anni, di Favara, il sequestro preventivo dell'aria interessata. I carabinieri della tenenza di Favara ieri hanno tratto in arresto un 37enne favarese perché è ritenuto responsabile di gestione illecita dei rifiuti e combustione illecita di rifiuti. Su segnalazione dei cittadini di Favara, i quali ci hanno segnalato fumi e cattivo odore provenienti da una zona di campagna, ci siamo recati sul posto e abbiamo subito constatato la presenza di una discarica abusiva di 1500 m2 circa, dove c'era presente una varietà di materiali tossici e pericolosi. Abbiamo tratto in arresto il soggetto perché è trovato proprio nella fragranza del reato, stava piccando fuoco ai rifiuti tossici e abbiamo denunciato anche il proprietario del terreno, un sessantenne sempre favarese. Inoltre i carabinieri di Favara hanno rinvenuto delle cisterne di gasolio agricolo presumibilmente provenienti da attività illecita e quindi è stato denunciato anche per la detenzione di questo ingente quantitativo di gasolio agricolo perché abbiamo trovato anche materiale appunto per contalitri e materiale come se dovesse vendere questo carburante e nessuna autorizzazione era presente. Quindi non ha saputo giustificarsi il soggetto e non ha saputo dare giustificazione della presenza di una discarica di questa entità e vastità e per questo abbiamo proceduto all'arresto. I gnoti hanno danneggiato due camion e due scavatori di proprietà dell'impresa a cui la provincia di Agrigento ha paltato per un importo di circa 2 milioni di euro i lavori di recupero della strada provinciale che collega Santa Margherita Belice con Sambuca di Sicilia. Il titolare a sporto denuncia indagano i carabinieri coordinati dalla procura di Sciacca da quantificare il danno arrecato. I due scavatori erano posteggiati nel cantiere allestito lungo la strada provinciale. Due camion, uno Iveco e l'altro Mercedes invece in un'area di parcheggio a Santa Margherita Belice. Maxi sequestro beni da 150 milioni di euro ad un imprenditore nel settore della grande distribuzione a Palermo e provincia e un imprenditore colluso con i clan mise a disposizione un appartamento per il boss provenzano. I dettagli nel servizio. Alla fine degli anni 90 gestiva tre supermercati a Bagheria. Oggi possiede un impero nel settore della grande distribuzione. Nel 2019 ha sviluppato un volume d'affari pari a circa 80 milioni di euro. Si tratta di Carmelo Lucchese, 55 anni, finito adesso sotto accusa le indagini del nucleo di Polizia Economico-Finanziaria e della Procura di Palermo. Fanno luce infatti sui rapporti che l'imprenditore avrebbe continuato ad avere negli anni con la criminalità organizzata. Per questa ragione la sezione misura di prevenzione del Tribunale ha disposto il sequestro per la sua cassaforte la GAMAC Gruppo SRL che gestisce 13 supermercati fra Palermo e la provincia con Marchio, Conad e Todis. Sette sono in città, gli altri fra Bagheria, Carini, Bolognetta, San Cipirrello e Termini Merese. I finanzieri hanno notificato il provvedimento. Stamane le attività continueranno a lavorare. Gestite però da un amministratore giudiziario nominato dal Tribunale sono stati sequestrati anche 7 immobili a Pagliarelli, 61 rapporti bancari, 5 polizie assicurative, 16 autovetture, fra cui due Porsche Macan. Già nel 2014 Sergio Flamia, l'ex capo della famiglia di Bagheria, diventato collaboratore di giustizia e va accusato Lucchese di essere vicino al clan, lo riporta a Repubblica. Ma all'epoca quelle dichiarazioni non bastarono per far scattare una vera e propria inchiesta. Oggi si sono giunte le rivelazioni dell'ultimo pentito di mafia, Filippo Bisconti, l'ex capo della famiglia di Belmonte Mezzagno. Gli investigatori del GICO hanno poi ricostruito in modo approfondito la repentina scalata dell'imprenditore lucchese. Ha operato sotto la protettrice di Cosa Nostra, scrive il collegio, accogliendo la ricostruzione del procuratore Francesco Lovoi dell'aggiunto Marzia Sabella e del sostituto Giovanni Antoci. A Bagheria il re della grande distribuzione non avrebbe mai pagato il pizzo e grazie all'aiuto dei mafiosi bagheresi non avrebbe avuto aumenti sulla tassa mafiosa da versare in città per ogni punto vendita. Per il tribunale non c'è prova che soldi di Cosa Nostra siano finiti nelle società di Lucchese, ma l'imprenditore accusato di essersi rivolto ai boss anche per liberarsi di alcuni soci e sbaragliare la concorrenza. Nel 2005 avrebbe fatto addirittura incendiare a un supermercato di Bagheria che rischiava di portarli via clienti un rapporto illecito di reciproco interesse. Dunque quella criminalità organizzata lo definisce così il colonnello Gianluca Angiolini, comandante del nucleo di polizia economico-finanziaria di Palermo. Quando i mafiosi di Bagheria cercavano un covo sicuro per il superlatitante Bernardo Provenzano, l'imprenditore della grande distribuzione avrebbe dato dunque disponibilità di un appartamento anche se poi non venne dato, ha precisato così sempre il pentito Flamia, ma aveva offerto la sua disponibilità. Attorno alle indagini su Provenzano c'è il capitolo più misterioso di tutta questa storia e ancora Flamia a raccontare con Poliziotto della sezione Catturandi della squadra mobile di Palermo avrebbe passato notizie sulle inchieste a Lucchese, notizie poi finite ai boss di Bagheria. La moglie del poliziotto lavorava in uno dei supermercati, ha aggiunto ancora il pentito per l'accusa all'imprenditore, soggetto socialmente pericoloso, avrebbe anche assunto parenti dei mafiosi, quale riconoscimento e l'accusa del loro determinante intervento in momenti cruciali nel percorso di espansione commerciale. Per la Procura Lucchese il prototipo degli operatori economici che continuano ad arricchirsi all'ombra dei clan, l'operazione di oggi, dice il generale Antonio Quintavalle, comandante provinciale della Guardia di Finanza, si inserisce nell'ambito di una precisa strategia investigativa sviluppata con la Procura di Palermo per colpire l'organizzazione mafiosa e liberare l'economia legale dalle infiltrazioni criminali. Il Comune di Agrigento è impegnato 30.000 euro per il ritiro dei rifiuti indifferenziati all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. La vicenda ormai nota anche grazie alle numerose immagini che hanno fatto il giro dei social e che immortalano cumuli di rifiuti ammassati all'esterno del nosocomio agrigentino. Nelle scorse settimane, dopo le costanti lamentelle dei cittadini, era intervenuto il vice sindaco, Rileo Trupia, che aveva indicato le cause del problema che si trascina da quando praticamente è iniziata la raccolta differenziata nella città dei Templi, nel mancato adeguamento da parte della direzione dell'aspo di Agrigento alla differenziazione dei rifiuti, malgrado i diversi solleciti. Adesso è lo stesso Comune di Agrigento che impegna 30.000 euro a titolo oneroso per la bonifica dell'aria che sarà effettuata dal gruppo Iseeda. L'intera spesa sostenuta, come si legge nella determina del dirigente del settore terzo, sarà poi fatturata direttamente all'aspe di Agrigento che provvederà al rimborso. Delitto manca, si riapre la pista di mafia, riprende quota il giallo dell'urologo che 17 anni fa è stato trovato morto nel suo appartamento. Vediamo. Un medico affermato già a 34 anni, destinato a un luminoso avvenire nel campo dell'urologia, ma diventato tragicamente famoso per la sua fine, una morte avvolta ancora oggi nel mistero, con due aghi conficcati nel polso e nel gomito, il viso tumefatto e l'atroce, sospetto di essere rimasto vittima di un'esecuzione di mafia. E' il giallo di Attilio Manca, l'urologo di Barcellona, Pozzo di Gotto, Messina, trovato morto 17 anni fa a Viterbo, e che adesso torna in primo piano. La terza sezione del Tribunale di Roma, assolto in appello perché il fatto non sussiste, la donna accusata della cessione di eroina Monica Mileti, che in primo grado era stata condannata a 5 anni e 4 mesi di carcere. Un verdetto ribaltato che di fatto rafforza lo scenario più agghiacciante al quale hanno sempre creduto non solo la famiglia, ma pezzi importanti della società civile, tanto che il caso Manca nel 2018 è stato affrontato anche dalla Commissione parlamentare antimafia, allora guidata da Rosi Bindi. Cosa accadde quella maledetta mattina dell'11 febbraio 2004, nell'abitazione Viterbese del medico che viveva da solo, l'ipotesi è quella di un omicidio compiuto tramite un'overdosa indotta, seguita da una messa in scena, perché pochi mesi prima, come rivelato da alcuni pentiti, il dottore era stato segretamente in Francia per operare di tumore alla prostata, il boss Bernardo Provenzano, detto Binutrattori, una trasferta nata in seguito a contatti nella sua terra d'origine, in base a tale scenario il dottor Manca, noto in Italia nonostante la giovine età per aver eseguito il primo intervento per via laparoscopica, potrebbe essere stato ammazzato nel timore che rivelasse dettagli sulla latitanza del boss che sarà arrestato due anni più tardi, adesso con l'assoluzione della donna accusata di aver procurato l'eroina, un'amica infermiera della vittima, il giallo riprende quota anche perché non è mai stato dimostrato che il chirurgo si drogasse, sono soddisfatto, la mia assistita era rimasta schiacciata in una storia in cui non c'entrava nulla, commentato l'avvocato Cesare Placanica, difensore dell'imputata. I punti oscuri di questo inquietante caso italiano però sono numerosi, ma tre in particolare hanno suscitato perplessità, il primo riguardo è un elemento ritenuto ininfluente dagli investigatori fin dall'inizio, propensi per aver dose solitarie in casa e al contrario considerato centrale sia dai genitori Angela e Gioacchino sia dagli amici dell'urologo Attilio era pienamente mancino, lo sventurato urologo come aveva potuto iniettarsi con la mano destra che non utilizzava né per scrivere né per qualsiasi altra attività le dosi immortali di eroina. Altro elemento alquanto enigmatico è la mancanza di impronte sulle siringhe repertate, una delle quali presentava persino il tappo, salta, stantuffo, terzo tassello, il pestaggio, la vittima come documentato dall'esame autoptico e dalle fotografie presentava segni di un pestaggio sul viso con la frattura del setto nasale, un quadro più che mai controverso insomma sul quale si erano già a suo tempo innestate le dichiarazioni di almeno cinque pentiti ascoltati in vari contesti giudiziari, tutti concordi secondo quanto riportato nella relazione dell'antimafia del febbraio 2018 nel dire che Attilio Manca era stato assassinato dopo esser stato coinvolto nelle cure del latitante provenzano in Francia. Giulia Sarti, deputata del Movimento 5 Stelle, della Commissione Giustizia e della Camera, ha così commentato la sentenza. Cade la falsapista della droga, Attilio Manca non si è mai drogato e non si è suicidato, è una vittima di mafia. Terremoto all'interno della giunta di Porto Empedocle guidata dal sindaco Ida Carmina, il vice sindaco e assessore al bilancio Salvatore Urso e l'assessore Salvatore Di Dio hanno presentato le dimissioni. Alla base delle dimissioni dell'ex vice sindaco ci sono le differenze di vedute con la strategia del Movimento 5 Stelle a livello di politica nazionale. Urso ha dichiarato che pensa al presente e alla sua famiglia e che per le elezioni comunali attualmente non ha vincoli con nessun partito. Il Presidente della Regione nell'Omusumeci esclude un mini lockdown e si ripropone di chiedere nuove aperture al Governo nazionale, soprattutto per la cultura. Vediamo. È chiaro che il contagio è altalenante e noi abbiamo il dovere di seguire il tasso di contagio e al tempo stesso il numero delle perdite. Non siamo in una zona di allarme, ma non vorrei ci si arrivasse, perché la zona gialla diventa e deve diventare un patrimonio di tutti e tutti abbiamo il dovere di salvaguardarlo, questo patrimonio. Come sapete, in alcune zone del nord è stata necessaria la istituzione della zona rossa. In Sicilia in questo momento non si presentano aree con un tasso di crescita particolarmente allarmante, tale da giustificare un provvedimento del genere. Continuiamo a sperare che il senso di responsabilità collettiva debba prevalere su tutto. Se riusciamo a mantenere il tasso ai livelli dei giorni scorsi, siamo arrivati a circa 350 contagi, e noi potremmo continuare con la zona gialla e magari con il governo nazionale confrontarci su eventuali altre aperture. A me amareggia tantissimo che il mondo della cultura e dello spettacolo rimanga ancora estraneo e precluso a ogni tipo di attività, però abbiamo il dovere di conoscere quali sono gli orientamenti del nuovo governo e quindi nei prossimi giorni avremo una conferenza Stato-Regione proprio per capire al di là delle buone volontà del Ministro Speranza, la cui riconferma costituisce naturalmente una buona opportunità per noi Presidenti di Regione, perché in un certo senso si spera in una continuità del metodo e della strategia, però il governo non ha ancora rivelato quali sono le linee lungo le quali intende muoversi. Quanto siamo indietro con la campagna vaccinale? Il servizio di Eugenio Cairone. Ritardi sul piano vaccinale e polemiche sulla richiesta di un nuovo lockdown. Mentre il governo Draghi incassa la fiducia al Senato, gli esperti cercano di sopperire ai ritardi con l'Italia preda della paura e delle fandomie legate alle varianti. Un clima insomma che sicuramente farà fare un salto di qualità al nuovo governo, creato per far fronte all'emergenza sanitaria, che Draghi dovrà affrontare prima di tutto. Bisogna insomma cercare tutte le soluzioni possibili per tirare fuori gli italiani dal tunnel. Una soluzione potrebbe essere il vaccino russo, molto simile agli altri che stanno facendo esasperare per la lentezza nella distribuzione, come nel caso della Pfizer. Ecco allora che il russo Sputnik diventa una garanzia in più contro il Covid e ci si chiede come mai ancora la politica non si muova in quella direzione. Francesco Vaia, direttore sanitario dello Spallanzani, ieri sera ospite di Bruno Vespa ha lanciato un chiaro messaggio alla politica perché ne prenda atto. Vaia ha parlato proprio del vaccino russo. Sono queste cose che gli italiani vogliono sentire e non sentir parlare ancora di lockdown. Che Draghi ci aiuti. E sul vaccino noi abbiamo immaginato che, anche se si chiama Berzbo, se è un vaccino efficace e sicuro, noi dobbiamo prenderlo. Qui ho detto che cosa avete fatto l'analisi. Noi abbiamo fatto un'analisi sulla scorta della documentazione in nostro possesso, quella pubblicata per capirci su Lancet, e da quello abbiamo capito che è un vaccino che ha un'efficacia di oltre il 92% e quindi è un vaccino efficace, è altamente sicuro. Ora, io credo che la scienza deve far si guidare delle due cose. Dall'assoluta neutralità, dalla politica, dalla geopolitica in questo caso, e oltre che dal dubbio, noi dobbiamo sempre essere dubbiosi, no? Mai pensare di avere la verità in tasca. In questo caso, noi, come dire, sceperi da qualsiasi condizionamento, come istituto Spavanzani, riteniamo di dire con alto e forte che forse questo è un vaccino che può servire agli italiani. Io non capisco la tesi della von der Leyen, una persona rispettabilissima che oggi dice ma è troppo presto di parlare di un vaccino sputti, ma insomma, non capito perché. Ma è solo, non so. Se voi, se gli italiani lo manderanno a lei... La von der Leyen fa un ragionamento probabilmente politico, geopolitico, non lo so. Noi facciamo un ragionamento, ribadisco, tecnico, scientifico. Punto. Evidentemente abbiamo, noi gli abbiamo dato a lei in anteprima stasera, ma l'abbiamo mandato alle autorità competenti, al Ministro della Sanità degli Esteri, credo sia arrivato anche a Draghi, perché la politica e il Governo lo utilizzi come meglio ritiene. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco vi aspetto. Agrigento appetibile anche per le imprese multinazionali. Ci spiega perché il nostro direttore Arturo Cantella. Nel corso dell'incontro con la stamba nella giornata di ieri al fine di illustrare le iniziative inserite nel bando Pinqua, procedura per la presentazione delle proposte per l'erogazione dei finanziamenti, per l'attuazione del programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare, che prevedono interventi migliorativi nei quartieri di Santa Croce, Parco Icori, Villa Seta, al fine di concorrere al disagio abitativo, con particolare riferimento alle periferie, alla sua rigenerazione urbana, all'incremento della qualità dell'abitare di parti della nostra città, con riferimento all'edilizia sociale. Il sindaco Vinciche ha anche detto come aggrigento sia appetibile a grosse imprese multinazionali che vedono nella nostra città un momento di pubblicità anche per loro, essendo aggrigento, noto in tutto il mondo per il suo parrimonio culturale e storico, al fine di valorizzare parti del nostro territorio, come ad esempio potrebbe essere il Parco Icori. Parliamo del Parco Icori, che già dall'indomani del nostro insegnamento abbiamo iniziato a lavorare a Gesù e oltre all'avviso di cui parlava l'assessore di tutto il mondo, abbiamo anche tante altre iniziative da parte di multinazionali che sono interessate alla nostra città. Noi siamo visti da lontano con un interesse particolare. Lo sguardo delle multinazionali, il suo aggrigento, è puntato, è interessante perché loro vedono in noi un potenziale turistico e economico immenso. Dobbiamo essere bravi noi ad accogliere le richieste, a farle nostre e poi a scegliere il mio referente. Noi per ora siamo più interessati, naturalmente per le zone che più interessano a noi, ma per la qualità di vita per gli abitanti, perché siccome con l'ultima legge regionale che è uscita c'è un consumo del suolo zero, cioè non si possono fare in teoria nuove costruzioni, dobbiamo andare a recuperare le esistenti. E quale migliore sito c'è se non il centro storico? Un uomo è morto lo scorso 3 gennaio. Da quel giorno nessuno ha reclamato la salma, che si trova nella camera mortuaria dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. La vittima era un uomo di 86 anni, vedovo la persona da tempo, viveva da sola. Pare non abbia parenti che vivono a Portempedocle, ma pare che siano lontano e non sarebbero neppure nelle condizioni economiche di provvedere alla sistemazione della salma. Paura per una pensionata di Raffadali, che ieri mattina è precipitata all'interno di un pozzo per le acque piovane, profondo ben 15 metri. La donna, forse perdendo l'equilibrio, è precipitata giù per il pozzo, non potendo più risalire. Ad attirare l'attenzione del vicinato sono state le urla della settantenne. Alcuni residenti, richiamati dalle grida, sono immediatamente intervenuti a prestare i primi aiuti e chiamare il personale medico. La donna è stata così salvata e trasportata all'ospedale di Agrigento, dove le sono stati diagnosticati traumi sparsi, ma per fortuna non è una grave conseguenza. Ad Agrigento, nonostante le difficoltà legate all'emergenza sanitaria, il Comune intende assecondare le esigenze delle famiglie con bambini di età compresa tra 0 e 3 anni, consentendo loro di frequentare gratuitamente gli asili nido comunali. Le iscrizioni sono attese nell'asilo nido di via Esseneto, in quello del villaggio Mosè, dove i bambini potranno frequentare gratuitamente per tutta la durata dell'anno scolastico in corso, seguiti da personale qualificato e preparato. Inoltre, a coloro che hanno bambini già iscritti nei due asili nido, saranno rimborsate le rette finora pagate. Nella bella ma sfortunata spiaggia di Torresalza, dopo le barche dei migranti, è arrivato un lunghissimo tubo inquinante. La condotta fognaria, probabilmente il pennello di Siculiana, è giunto nella splendida spiaggia di Fungiterri, dopo le recenti mareggiate. Maria Amico ha allertato la struttura commissariale che gestisce le fognature in provincia a fine di scoprire la provenienza e provvedere alla sua rimozione. Lo denuncia l'Associazione Ambientalista Maria Amico. Al via la settima edizione 2020-2021 del progetto Rete. I dettagli con Carmelo Lentini. Prosegue lo sviluppo dell'attività di carattere sociale avviata dal coordinamento del settore giovanile scolastico Sicilia della FIGICI. Nel pieno rispetto delle norme e dei protocolli di sicurezza per la tutela della salute e tenendo presente anche l'evolversi dell'attuale momento di emergenza sanitaria da Covid-19, continua la programmazione del progetto Rete, da quest'anno denominato semplicemente Refuge Team, avviato con i centri di accoglienza del sistema SAE-SI-PRO-IMI, al fine di promuovere e favorire l'interazione tra pari e processi di inclusione sociale ed interculturale attraverso il calcio. L'attività Refuge Team, che si svolge in Sicilia sotto la supervisione del coordinatore Stefano Valendi e del responsabile del progetto Frango Nucatola, da quest'anno prevede interessanti percorsi formativi. Questo giovedì, infatti, 18 febbraio, parte il primo corso per educatori e per dirigenti FIGICI preposti al progetto. Il corso, che si svolgerà in modalità online, sarà tenuto dai professori dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. A questa settima edizione, 2020-2021, che partirà entro il mese di febbraio, ad oggi sono iscritti 15 ISAE-SI-PRO-IMI siciliani e ben distribuite da un capo all'altro della regione. Si tratta di Agrigendo, Cammarata, Canicattini-Bagni, Comiso, Mazzarino, Milazzo, Pace del Mela, Palma di Montechiaro, Petrosino, Raffadali, Scordia 1, Scordia 2, Trabia, Vittoria e Vizzini. È un progetto bello, ambizioso, ma è un progetto importante. Importante perché, come dici tu, questa è la settima edizione e i numeri sono notevolmente aumentati. Basta pensare che dalle 14 SPLAR che hanno partecipato alla scorsa edizione, quest'anno siamo arrivati già a 28. Quindi c'è grande entusiasmo attorno a questo progetto, un progetto che cambia nome, viene chiamato quest'anno progetto RE-PRO-GET-IMI ed è indirizzato ai minori stranieri accolti in Italia, chiaramente, non accompagnati. Si tratta di molti centri della Sicilia che hanno aderito con grande entusiasmo. Lo scorso anno è stato un grande successo, si profila il BIS anche quest'anno. Sì, aumentati notevolmente i centri. Basta pensare che anche nella nostra provincia sono sette i centri che partecipano a questa edizione, sono due di Aguigento, uno di Palma di Montechiaro, uno di Licata, uno di Camarata e Sciacca Raffadale. Questi sono i centri della nostra provincia che partecipano a questo progetto, un progetto che coinvolge non solo il Ministero dell'Interno ma anche l'Angi, cioè l'Associazione Nazionale Comune Italiane. Per questo devo anche ringraziare l'amministrazione comunale di Aguigento con l'assessore Vullo che è stato vicino a noi per l'inizio, per l'iscrizione di questo Strarre, tra l'altro la Vicentina. Chiaramente oggi inizia anche il corso per coloro i quali si vogliono dedicare ad allenare questi giovani che sono comunitari. Sì, praticamente cambia un buon progetto. Anche se noi onestamente abbiamo cercato di trovare un tecnico che si occupa di questi ragazzi durante la fase degli allenamenti, un tecnico abilitato, che possa impegnare questi ragazzi almeno una volta alla settimana in un'attività calcistica per poi poter continuare a concludere questa fase con un torneo, prima a livello provinciale, regionale e addirittura nazionale. Però voglio precisare che il nostro compito, il nostro obiettivo non è quello di andare a creare una squadra che possa vincere il torneo. Per noi è molto importante veramente quello che il calcio ci dà, il valore educativo, la socializzazione, l'integrazione. Questi momenti che sono grandissimi e che questi ragazzi ne hanno tantissimo bisogno, non solo i nostri ma a maggior ragione questi giovanotti. Quindi è chiaro che accanto a questo la federazione ha pensato anche un corso di formazione per gli operatori degli sparri, che adesso li chiamano Siproimi, e anche addirittura delle attività online per quanto riguarda i ragazzi che partecipano a questo progetto. L'UEFA nel 2015 ha assegnato a ognuna delle federazioni più importanti d'Italia di seguire un percorso calcistico per i ragazzi, chiamiamoli con difficoltà un po' disagiati. All'Italia ha dato la problematica dei minori richiedenti asilo, dato che in Italia ne arrivano tantissimi. Quindi la federazione calcio ha accolto questo invito, sposato naturalmente dal Ministero degli Interni, dall'Università Cattolica, con grossi sponsor. Abbiamo iniziato con 5 sprarri in Sicilia e con 70 ragazzi. Ora dopo 7 anni, questa è la settima edizione, sono 27 centri di accoglienza in tutta la Sicilia e circa 450 ragazzi, per un totale di mille ragazzi in tutto il territorio nazionale. È un progetto che dà tantissimo a questi ragazzi, ma anche a noi da un punto di vista umano, sociale, che sono ragazzi che hanno poco e quindi portargli un pallone, portargli una maglietta, coinvolgerli in partite veramente bene organizzate, con i nostri tecnici federali per loro non sono lì. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.